Musica Auletta frana sulla SS19 delle Calabria Il cittadino Ernesto Cavallo Abbandonati dal sindaco e dalle istituzioni Sanità De Luca Prestazione di laboratorio garantite Risponde Danna Annuncio ambiguo Politica Simone Valiante analizza l'attuale stato del PD Esperienze nazionali e regionali Hanno provocato desertificazione del partito Manca la lealtà Teggiano 21 settembre 1998 21 settembre 2018 20 anni della banca Montepruno nel Vallo di Diano Grande festa con Enzo Avitabile in concerto Sport calcio I calendari di eccellenza Nel girone B palmese Audax Cervinara Le favorite Buonasera ben trovati con il consueto appuntamento Con l'informazione di Uno News Apriamo occupandoci di viabilità E andando ad Auletta Peggiore infatti lo stato Della SS19 delle Calabria Nel comune di Auletta Dopo quanto accaduto Quattro anni fa Quasi cinque Di recente un nuovo smottamento Ha interessato Un altro pezzo Della strada Poco prima Una situazione davvero assurda Che ha isolato ulteriormente I nuclei familiari Che abitano al di là Della strada Il terreno scende Sempre più a valle I temporali Di queste ultime settimane Hanno peggiorato La situazione Mentre all'orizzonte L'inverno Non lascia presagire Nulla di buono I cittadini del posto Sono infuriati E all'indomani Dell'annuncio Della gara d'appalto Dovrà Che la gara d'appalto Scusate Dovrà essere rifatta Dopo la pronuncia Del consiglio di stato C'è chi è quasi terminato La pazienza Tra questi Ernesto Cavallo Un cittadino Che intervistato Dal nostro Giuseppe Promolla Ha illustrato L'attuale stato Del terreno Proprio Al di sotto Della sua abitazione E ha evidenziato Com'è difficile Portarsi dietro La sua casa Il signor Cavallo Punta il dito Contro L'amministrazione comunale Che li ha abbandonato Mentre Soltanto grazie All'iniziativa Dei singoli cittadini Che di recente È stato sistemato Il percorso alternativo In particolare Il signor Cavallo Chiede Che vengano Fatti I rilievi Geologici Nei pressi Delle abitazioni In modo Da capire Se ci sono rischi Frana Per la casa O meno Ma dall'amministrazione Nessuna risposta Ascoltiamolo Come puoi vedere Questo Prima era Un solo fondo Con una sola rampa Adesso Si sono creati Dei profondi avallamenti Che Da un lato E dall'altro Non riesci a vedere più Né le piante Né tantomeno la terra La mia preoccupazione Non è tanto Il fatto che Incominci Il fatto che qua Purtroppo Non vedo Nessuna soluzione E non vedo Nessun interesse Da parte Da parte Di chi dovrebbe Almeno Tutelarci Perché qua Siamo cinque Nucli familiari Non è che sono solo io Siamo cinque Nucli familiari Siamo abbandonati A noi stessi Non c'è il minimo interesse Mi auguro Che Non accada mai nulla Perché qua in Italia Noi purtroppo Siamo abituati Che se non succede Se non ci scappa il morto Non si fa mai nulla Però Non credo Che possiamo Aspettare questo Anche perché Mia moglie E mio figlio Cioè Non possiamo vivere In questa Non è terrore Però Comunque Non stai calmo Perché Al minimo rumore Tu Stai sempre sul chi va là Perché Stai in una situazione Di alta tensione Veramente In questo momento In questo paese La prima urgenza Secondo me È questa frana È quell'altra Che sta partendo Perché non è che Io voglio parlare solo di questa C'è un'altra Che sta partendo Però C'è la stessa negligenza Che come c'è stata qua La stanno La stanno facendo Anche all'altra parte Allora Che aspettiamo qua Aspettiamo che magari Fra vent'anni Aggiustiamo questa E si rompa quell'altra Siamo sempre Allo stesso punto Era un fronte Di dieci metri Venti metri Adesso è un fronte Di cento metri Noi siamo ancora in piedi Perché? Perché c'è un pezzo Qui sotto Che ancora regge Ma se quello La crolla Io sono sicuro Al cento per cento Che come crolla Quello Così scendiamo a valle E finalmente Quindi c'è il concreto Rischio che probabilmente Se resta così Altri quattro anni Forse fra quattro anni Altri quattro anni Sicuramente la casa Penso che sarà giù Io mi auguro di no Però Io ho questo sentore Allora Le pretese Non sono niente di che Allora Stare tranquilli Allora Mandare un ceologo Fare la perizia Fare la perizia E assicurarmi Che io posso restare qua Se non posso restare qua Io ce lo dissi all'epoca Fammi un'ordinanza di sgombero Dai un segnale forte Non è che noi possiamo stare così Allora Se lo devo chiamare io Ma beh basta che dicano Guarda Noi non te lo mandiamo Il ceologo Te lo devi chiamare tu Io me la faccio fare io La perizia geologica Non è questo il problema Però l'importante è saperlo Ma qua Fai domande E non ti rispondono Non è che adesso Si svegliano tutti Sezioni che nascono E si vogliono occupare Di frane e compagnia bella A me la campagna elettorale Non serve Io non ho nessuna aspettativa politica Nessunissima aspettativa politica Però voglio essere messo In condizione di stare almeno tranquillo Andiamo avanti La cronaca I militari della compagnia Carabinieri di Sala Consilina Hanno tratto in arresto Un 37enne di origine nigeriana Già noto alle forze dell'ordine Per maltrattamenti in famiglia E lesioni personali L'uomo ospite di un centro Di accoglienza per stranieri E' stato sorpreso Mentre aggrediva la donna Che riportava Una donna che riportava Varie contusioni al viso Medicate Poi presso l'ospedale Luigi Curto Di Polla Le indagini hanno portato Che hanno appurato Che i maltrattamenti Erano patiti dalla vittima Dallo scorso dicembre L'arrestato E' stato sottoposto Agli arresti domiciliari Su disposizione Dell'autorità giudiziaria Di Lago Negro In attesa Di essere giudicato Andiamo avanti Non si arresta L'ondata Dei furti Nel Vallo di Diano Fortunatamente A volte I malviventi Non riescono a portare A termine I loro crimini Come è successo A Sala Consilina La scorsa notte Infatti I ladri hanno tentato Di entrare In una tabaccheria Di via Matteotti Pare abbiano provato A forzare La Saracinesca Ma non sono riusciti Ad entrare La dinamica Dell'accaduto E' ancora ignota Sulla vicenda Indagano i carabinieri Della stazione Di Sala Consilina Andiamo avanti Cambiamo argomento Lasciamo la cronaca Per occuparci Della sanità Circa gli esami Di laboratori Ieri è arrivato L'annuncio Del governatore Della regione Campania De Luca Che ha autorizzato Formalmente Le aziende sanitarie Locali Della Campania A finanziare In via di anticipazione Con fondi propri Le prestazioni Di analisi Dei laboratori Accreditati Qualcuno E' perplesso Circa l'annuncio E soprattutto Per quel Che riguarda La copertura Finanziaria Sembrano arrivare Buone notizie Per i cittadini Campani Circa le prestazioni Di laboratorio In questi giorni Di agosto Era stata prospettata Una situazione Drammatica In quanto Con largo anticipo Rispetto agli anni Passati Esaurito il tetto Di spesa Era arrivato Dalla regione Lo stop Allo sforamento E si stava allungando A dismisura L'elenco degli esami A pieno carico Degli utenti Ieri E' arrivato L'annuncio Del governatore Nonché commissario Ad acta Per il piano Di rientro Vincenzo De Luca Ho autorizzato Formalmente Le aziende Sanitarie Della Campania Dichiarato A finanziare In via di anticipazione Con fondi propri Le prestazioni Di analisi Dei laboratori Accreditati Per coloro Per coloro Che avessero Già fruito Di prestazioni A pagamento A causa Del superamento Del budget E' stato deciso Il rimborso Previa presentazione Al distretto Di riferimento Del relativo Titolo di spesa Nell'ambito Del protocollo Di collaborazione Con la guardia Di finanza Ho inoltre Attivato Una serie Di controlli A tappeto Nelle strutture Accreditate Segnalando Già diversi Casi eclatanti In cui si registrano Aggravi Di spesa Fuori dalla norma Non saranno Tollerati Nei truffatori Nei mancati Rigorosi controlli Occorre garantire Il servizio Ai cittadini Per tutto l'anno Le coperture Finanziarie Conclude Sono state trovate Ma nessuna Sciatteria Organizzativa Sarà tollerata Di fronte a ciò C'è chi resta Perplesso A partire Da Vincenzo Danna Già senatore Della Repubblica Oggi presidente Nazionale De Biologi Nonché sostenitore Di Vincenzo De Luca Alle scorse regionali Manifesta Preoccupazione Per la sanità Campana Sulla quale dice De Luca Ha toppato E riguardo All'annuncio di ieri E dichiara clamoroso E genera ulteriormente Ambiguità La garanzia Delle erogazioni Delle prestazioni Non trova riscontro Alcuno O De Luca Ci mostra Le correzioni Nell'atto Di programmazione Sanitaria Oppure sono nuove Dichiarazioni Campate in aria Sui controlli E l'intesa Con la Guardia Di Finanza Ormai dice I danni Sono già stati fatti E il problema Nasce proprio Da Salerno Qui i controlli Non sono mai stati Effettuati Mentre a Napoli Caserte Avellino Ci sono stati Blocchi Dopo il controllo Sulle prestazioni A Salerno Si è proseguito Anzi Si è permesso Ai napoletani Di venire a pescare Qui E non si dica Conclude Danna Che ci sono Maggiori prestazioni Da parte dei campani I dati parlano chiaro In campania Le analisi di laboratorio Ammontano A nove esami Pro capite Rispetto alla media Nazionale Che è di 14 Quindi non c'è Nessuno sforamento Anzi Siamo al di sotto Del trend nazionale In merito All'annuncio Del presidente Della regione Campania Vincenzo De Luca Proprio relativo Ai pagamenti Delle prestazioni Per i centri Accreditati È intervenuta La responsabile Del dipartimento Di sanità Di Fratelli D'Italia Carmela Rescigno Che attacca Duramente La decisione Con questa Decisione Scrive In una nota Stampa De Luca Condanna La campania Al commissariamento A vita Della sanità Aprendo La strada Ad una nuova Voragine Nei conti Comprendo Che l'iniziativa Abbia un chiaro Sapore Elettorale Con l'avvicinarsi Delle elezioni Regionali Spiega Ma si rischia Di creare Un pericoloso Precedente Con questa decisione Si chiede L'esponente Del gruppo Di Giorgia Meloni Quando la campania Raggiungerà L'equilibrio Dei conti Uscirà Dal piano Di dentro E poi Chi ha suggerito Al presidente De Luca Questa folle Strategia Scrive E forse opera Del consigliere Per la sanità Enrico Coscioni Oggi sotto processo La decisione Di sostenere I pagamenti Per le prestazioni Della sanità Privata Con le anticipazioni Delle ASL Che costano interessi Presso il tesoriere Che tra l'altro Sono già sicuramente Impegnate Per far fronte Alla discontinuità Dei trasferimenti Regionali Presenta Profili Di dubbia Legittimità Oltre che gravi Profili Di responsabilità Contabile Conclude Rescigno Per mancata Programmazione Controllo E presidio Dei tetti Di spesa Costi Per interessi E sperequazioni Tra i centri Che hanno esaurito Già il tetto Di spesa E quelli Che ancora Non hanno raggiunto Il limite Cambiamo argomento Ma restiamo In un certo senso Sul tema politica Perché l'onorevole Simone Valiante Nei giorni scorsi Attraverso la sua pagina Facebook Aveva criticato Duramente Il suo partito Ma soprattutto I referenti A livello nazionale E anche regionale Intervistato Da noi L'onorevole Valiante Attacca Il partito A livello nazionale Ma anche regionale Evidenziando Come si è venuto A mancare Il senso Di lealtà Tra gli esponenti E attaccando Duramente Proprio La gestione Renzi Ascoltiamolo Non c'è più Un partito Come l'abbiamo inteso E costruito Per tanti anni Un partito Che teneva insieme Le persone Con un senso Di comunità Perché in fondo Un partito Come qualsiasi aggregazione Democratica Vive dello spirito Di comunità È come un paese È come una città In questi ultimi anni Abbiamo vissuto L'esperienza Di chi ha costruito Tutto Sulla sua immagine Desertificando La politica Le classi dirigenti Sui territori E rompendo Rombendo anche Un rapporto Di fiducia Di lealtà Reciproca Che era Altro elemento Fondamentale Che teneva insieme Le persone Nell'esperienza Del PD E non credo Solo Del PD Che il dato Vero Che raccogliamo Cioè L'esperienza Di Renzi A livello nazionale Ma anche Altre esperienze A livello regionale Lasciano Dietro Una desertificazione Politica Progressiva Perché Non è il problema Delle sconfitte Che ci possono stare In politica Quante sconfitte Abbiamo subito Come centrosinistra Ci siamo rialzati Adesso Per la prima volta Forse Nella storia Del centrosinistra Io riscontro Un'oggettiva difficoltà Anche a ricostruire A riprendere Un percorso Anche le immagini Di questi giorni Sono Bastanza evidenti Di fronte Alla confusione Di un governo Che vive ancora Chiuso Nei suoi slogan Insomma Adesso Per distrarre L'attenzione Dai problemi veri Degli italiani Siamo dieci giorni Fermi Su questi 190 poveri cristi Che li tengono bloccati Lì In un porto italiano Perché mai è diventata Anche quella Solo una battaglia Di slogan E di immagini A fronte anche Di questa confusione Che è evidente Le immagini Desolanti Anche di Maurizio Martino Una persona per bene Volantorosa Ma Che arriva in una città Come Catania E trova sette persone Che lo accolgono Va a aprire La festa Dell'unità di Ravenna La festa nazionale Trova 50 persone Portate lì anche Diciamo In maniera forse poco volontaria Senza più entusiasmo Senza più partecipazione vera L'immagine di una comunità Che non esiste più E che ovviamente Non è responsabilità di Martino Ma sicuramente Di chi l'ha preceduto E di chi Anche su In alcuni territori In alcune regioni Ha interpretato Quell'idea della politica Una politica solitaria E aggressiva Che oggi però Raccoglie la desertificazione Di un progetto politico Che non ha più le persone Non ha più l'opinione pubblica Non ha più gruppi dirigenti veri Parlamentari che sono stati eletti Soltanto perché cooptati Come capilista E scelti tutti Da segretario uscente Che nonostante questo Diciamo Rimangono lì Aggrappati Valorizzati Anche con doppi ruoli Insomma E anche Un modo Per sfidare L'opinione pubblica Cioè La gente Ti ha dato una lezione Il 4 marzo E la risposta E reagire anche Con una certa Arroganza Politica Che rischierà Di farci scomparire Forse Già Cominciare Il prossimo Appuntamento Delle elezioni europee Andiamo ora A Teggiano Festa grande Per il prossimo 21 settembre Grazie alla Banca Montepruno Quando Si festeggerà Il ventennale Dell'inaugurazione Della Prima filiale Nel Vallo di Diano Seconda filiale Per la Banca Montepruno Che si è stata aperta Proprio nel 21 settembre Del 1998 A Teggiano Così Dando Un'apertura Che ha dato Anche il via Ad un rapido Percorso Di crescita Ed espansione Della Banca Montepruno Vediamo La Banca Montepruno Festeggia 20 anni Dal suo arrivo Nel Vallo di Diano Concretizzatosi Con l'apertura Della filiale Di Teggiano Seconda filiale Dell'Istituto Di Credito Diretto Da Michele Albanese Dopo l'inaugurazione Della filiale Di Piaggine E prima Nel territorio Valdienese Era il 21 settembre Del 1998 Quando la Banca Montepruno Iniziò il suo percorso Su nuovi territori Che in questi vent'anni È stato Inarrestabile Dimostrando Di riuscire Ad interpretare Al meglio Le esigenze E le aspettative Spesso diversificate Delle varie aree Di competenza La Banca Montepruno Vuole quindi Organizzare Un evento Intimenticabile Per questo anniversario A dimostrazione Del grande legame Che l'Istituto Di Credito Sente nei confronti Della comunità locale Che consentendo Con l'allora sindaco Angelo Giffoni L'apertura Della filiale Ha dato il via Al percorso Di crescita E di sviluppo Entrato poi Nel vivo Nel 2001 Con l'apertura Della filiale Di Sant'Arsenio Che l'ha portata Ad essere Per numeri E grandezza Tra le migliori Banche di credito Cooperativo Di tutta Italia E la prima Del sud Italia Costituita Nel 1962 A Roscinio Da 30 coraggiosi Agricoltori Artigiani Dalle grandi idee La banca Aveva dovuto Attraversare Anche un momento Di crisi Superato Con il presidente Michele Albanese Rimasto in carica Fino alla sua Prematura scomparsa Un lungo periodo Di rinascita E ricostruzione Che con l'arrivo Alla direzione generale Dell'attuale direttore Michele Albanese Nipote del presidente Ha dato il via Al processo di espansione Partito nel 1992 Con l'apertura Della filiale A Piaggine Nel 1998 A Teggiano Segnando poi La rapida crescita Della banca Monte Bruno Che conta ora 18 filiali Tra Campania E Basilicata Comprese le sedi Del capoluogo Di Regione Potenza E nella città Di Salerno Per questi successi Ottenuti a partire Dall'arrivo a Teggiano La banca Monte Bruno Ha organizzato Un ricco evento In programma Il 21 settembre A partire a partire Dalle ore 17 Presso l'hotel Marchesina Che porterà A Teggiano Poi in serata In piazza San Cono E Enzo Avitabile In concerto Inoltre Il direttore Michele Albanese Ha voluto anche Prevedere Un momento particolare Per ricordare Il primo sindaco Che ha dato fiducia La banca Monte Bruno Nel Vallo di Diano Nel pomeriggio Di venerdì 21 settembre È infatti prevista La consegna Del premio Angelo Giffoni In memoria Proprio del sindaco Che nel 1998 Consentì All'istituto di credito Di arrivare Nel Vallo di Diano L'amministrazione comunale Di Sant'Arsenio Guidata dal sindaco Donato Pica Convinta delle potenzialità Che può esprimere A livello turistico Il territorio comunale Ha dato il via Ad un ampio progetto Di valorizzazione E promozione Dell'area A livello nazionale Partendo dall'antico Borgo Serrone Intorno al quale Si sta appuntando Alla realizzazione Di un progetto turistico Che dia respiro Anche all'economia Locale Per dare la giusta Visibilità Al suggestivo borgo E non solo Sono previsti Tre appuntamenti Pubblicitari Sulle reti Sky Che a partire Da questa sera Trasmettono La videocartolina Realizzata Da piccola Grande Italia TV Borgo Serrone Centro storico Di Sant'Arsenio E del paese Con tutte le sue ricette I luoghi più suggestivi Le chiese Le usanze Gli antichi mestieri E i monumenti Sono protagonisti Di un cortometraggio Di 13 minuti Trasmesso Su Viva l'Italia Channel Canale 879 Di Sky E Made in Italy Canale 875 Di Sky Tra gli appuntamenti Tre gli appuntamenti In programma Oltre quello Che è andato in onda Questa sera Alle 19.30 In programma Un secondo appuntamento Domani mercoledì 29 agosto Alle ore 12.30 E l'ultimo sabato 1 settembre Alle ore 21.30 Andiamo avanti Scade il prossimo 5 settembre La domanda Per la consulta Di garanzia statutaria L'organo Che si compone Di 5 membri scelti Che dovranno adottare Provedimenti Ed esprimere pareri In materia di iniziativa Popolare E di referendum Antonella Citro Il Consiglio regionale Della Campania Deve procedere Alla costituzione Della consulta Di garanzia statutaria E ai sensi Del comma 3 Dell'articolo 1 Della legge regionale Numero 25 2018 Organo di alta consulenza Giuridica Della regione Campania Si compone Di 5 membri scelti Tra professori universitari In materie giuridiche Magistrati in quescenza O fuori ruolo Avvocati iscritti All'albo professionale Da almeno 20 anni Invece Secondo quanto dispone Il comma 2 Articolo 2 Della legge regionale 25 2018 Ai componenti Della consulta Si applicano Norme relativi Alle cause Di ineligibilità E di incompatibilità Previste per i consiglieri Regionali Non possono però Essere eletti O nominati I membri Della consulta Nei 5 anni Successivi Alla cessazione Del loro mandato Quelli che hanno Ricoperto ruolo Di consigliere O assessore regionale Provinciale O comunale La consulta di garanzia statutaria È un organo autonomo E indipendente Della regione E ha sede In assemblea legislativa Adottare provvedimenti Ed esprimere pareri In materia Di iniziativa popolare E di referendum Esprimere pareri Di conformità Allo statuto Delle legge E dei regolamenti Regionali Tra i compiti Principali Stando al bollettino Ufficiale Della regione Campagna Richiamato anche Dal sito web Dell'Asla Salerno Coloro che vogliono Presentare la propria Candidatura Dovranno presentare Domanda in carta libera Sottoscritta Come da legato Corredata da curriculum Vite E dalla fotocopia Di un documento Di riconoscimento In corso di validità All'indirizzo Presidente del consiglio Regionale Della campagna Centro direzionale Isola F13 80 143 Napoli Il termine di presentazione È il 5 settembre Le proposte Dovranno essere trasmesse Poi a mezzo posta Elettronica Certificata A protocollo Punto generale Chiocciola consiglio Punto regione Punto campagna Punto legal mail Punto it Destinare a servizi Di carattere sociale I beni confiscati Alla criminalità Organizzata E quando intende fare L'amministrazione comunale Di Agropoli Che punta A presentare Specifiche richieste All'agenzia nazionale Per l'amministrazione L'amministrazione comunale Della città di Agropoli Retta dal sindaco Adamo Coppola Ha intenzione Di presentare Richiesta di manifestazione Di interesse All'agenzia nazionale Per l'amministrazione E la destinazione Dei beni sequestrati E confiscati Alla criminalità Organizzata Per l'utilizzo Dei cespiti Confiscati Siti nel comune di Agropoli A tal proposito L'ente comunale Intende allocare All'interno degli stessi Compatibilmente Con le destinazioni Catastali urbanistiche Servizi di carattere sociale Come casa accoglienza Anziani Centro accoglienza Minore a rischio Casa senza fissa dimora Sportelli ascolto Sezione osservatorio italiano Informazione anticrimine Gestiti direttamente Dal comune O in esternalizzazione Ad associazioni identi Finalizzati a facilitare L'integrazione E migliorare Le interrelazioni Tra istituzioni Nel rispetto Delle indennità Culturali Più nel dettaglio Si vogliono Realizzare i servizi Tesi al contrasto Delle situazioni A rischio Di marginazioni Sociali di minori Servizi di accompagnamento Anche di persone Senza fissa dimora Pertanto Il comune di Agropoli Sarà dotato Finanziaramente Delle somme necessarie A garantire La sostenibilità Nel tempo Della progettualità Individuata Per la gestione Dei beni confiscati Nonché Per il fattivo Utilizzo Degli stessi Entro un anno Dalla loro consegna In ragione Dell'attuale Stato di manutenzione Diversi Cespiti ubicati Nel comune di Agropoli In particolare Una villa In località A moio Altre due In via Piano delle Piere Un appartamento Sito in via Cannetillo E uno In via Moio Alto Dove è presente Anche un terreno Un'altra villa È situata In via Barre E due terreni agricoli In via Cannetillo E ora A breve stacco pubblicitario Torneremo Tra pochissimo Con il resto Delle nostre notizie Restate con noi Bentornati Alla seconda parte Del nostro Tg La siccità Potrebbe essere La causa Dell'aumento Del prezzo Del pane E della pasta E la preoccupazione Concreta Del Codacons Intanto Aumenta Anche il corredo Scolastico Un rincaro Per i genitori Che hanno figli In età scolare Vediamo Potrebbe causare Un aumento Dei prezzi Di pasta e pane La siccità Che ha colpito In queste settimane I principali paesi Produttori di grano E l'ultima Preoccupazione Del Codacons Manifestata In una nota Secondo la quale Un rialzo Dei listini Del 5% Determinerebbe Una maggiore spesa Pari a 45,6 euro Annui a famiglia Una maxi Stangata Da complessivi 2,7 miliardi Di euro All'anno Il grano È alla base Della nostra dieta Chiarisce il presidente Del Coda Conse Carlo Rienzi In Italia Una famiglia media Spende circa 76 euro Al mese Per pane E cereali E il giro D'affari Legato al solo pane Raggiunge nel nostro paese 8 miliardi Di euro All'anno E poi ancora Gli italiani Consumano ogni anno In media 24 kg Pro capite Di pasta E circa 60 kg Di pane Focacce E pizze Il rialzo Del costo Del grano Dunque potrebbe Rivalersi Anche sul costo Della materia prima E su quello Dei prodotti Al dettaglio Russia USA Francia Germania E Ucraina Hanno ridotto Intanto del 20% Le scorte Di grano tenero E seppur in quantità Minore Anche quelle Di grano duro Viene insomma Considerata critica La situazione Dagli esperti Esiste cioè Una possibilità Concreta Che il prezzo Aumenti E tutti Sono col fiato Sospeso Con l'arrivo Di settembre Arrivano Stangate Anche su libri Corredi Scolastici Secondo Federconsumatori Quest'anno Il corredo Per ogni Singolo Studente Costerà In media 526 euro L'incremento È dello 0,8% Rispetto Al 2017 Tenuto Conto Anche di altre Spese Attinenti All'ambito Le famiglie In sostanza Spenderanno In totale Per i figli Che vanno A scuola In media 1100 euro Continua La rassegna Padula 2018 Non solo Cultura Promossa Dal circolo Sociale Carlo Alberto 1886 Preseduto Da Felice Eterno Domani sera Presso La certosa Di San Lorenzo Scusate L'incontro Su Vittorio Bracco Il docente Nel ricordo Di vecchi Alunni Vediamo Continuano gli eventi estivi Del circolo Carlo Alberto 1886 Entranti nella rassegna Padula 2018 Non solo cultura Domani sera 29 agosto Alle ore 20 Nei locali Della spezzeria Nella certosa Di San Lorenzo Si terrà Un incontro Su Vittorio Bracco Il docente Nel ricordo Di vecchi Alunni Saranno il professore Emilio Giordano Il giornalista Giuseppe D'Amico E altri ex allievi Del professor Bracco A parlare Del loro maestro Vittorio Bracco Uomo di molteplici Interessi culturali È stato un italianista E latinista Di grande spessore Un archeologo E storico Dell'archeologia Uno studioso Delle tradizioni E delle vicende Storiche Dei nostri paesi Autore Di numerosi scritti Pubblicati in volumi E prestigiose riviste È stato anche ordinario Di lettere italiane E latine Presso il liceo classico Marco Tullio Cicerone Di Sala Consilina Dal 1964 Al 1983 Oltre agli ex allievi Del professor Bracco All'incontro Prenderanno parte Il presidente Dell'associazione Montepruno Giovani Antonio Mastrandrea L'assessore alla cultura Del comune di Padula Filomena Chiappardo E il presidente Del circolo Felice Tierno La rassegna Di eventi estivi È stata organizzata In partnership Con la banca Montepruno E la Tubi For dei fratelli Fortunati Oltre che con La collaborazione Dell'assessorato Alla cultura Del comune di Padula E della comunità Montana Vallo di Diano All'evento di domani Seguiranno a settembre Altri tre eventi Il 16 Nella certosa Di San Lorenzo L'incontro culturale Sulla storia Del brigantaggio meridionale 1860 1874 Il 23 La cerimonia D'intitolazione Di una piazzetta Il giornalista E scrittore Giuseppe Alliegro E il 30 Nella certosa Di San Lorenzo L'appuntamento Con Venere Nuda L'arte Di Emma Russo Carrara Andiamo a Sanza Sarà Vinicio Capostela A chiudere il meeting Del Cervati 2018 L'iniziativa Fortemente voluta Dall'amministrazione comunale Guidata dal sindaco Vittorio Esposito E dalla proloco Di Sanza Preseduta Da Vittorio Breglia Per valorizzare La cima più alta Della campagna L'ambiente E le tradizioni locali Sabato 1 settembre Alle ore 21 Il concerto Chiude La rassegna Vediamo Il meeting Del Cervati 2018 Sta per concludersi E lo farà In grande stile Con l'arrivo a Sanza Di Vinicio Capostela Che presso la villa comunale Di San Francesco A partire dalle ore 21 Di sabato 1 settembre Presenterà il suo evento Combat Folk Uno spettacolo In cui l'artista Metterà in evidenza L'amore per l'ambiente Per la terra E per la tradizione Un concerto Dal grande spessore artistico Anche per l'immensità Dell'artista Che in ogni suo spettacolo Coinvolge il pubblico Rendendolo partecipe E allo stesso tempo Protagonista Per le emozioni Che riesce a trasmettere Si prosegue quindi Fino alla fine A trasmettere i sentimenti Di amore per l'ambiente Per la tradizione E per la propria terra In questo meeting Del Cervati 2018 Grazie all'abilità Di Vinicio Capostela Che ben si immedesima Nel contesto E nelle idee ispiratrici Dell'evento Voluto dall'amministrazione comunale Guidata dal sindaco Vittorio Esposito Che si avvalsa Nell'organizzazione Dell'impegno E della capacità Della Proloco Presieduta da Vittorio Breglia E dei giovani di Sansa Sabato 1 settembre Il meeting del Cervati Si chiude con uno Dei migliori cantautori italiani Della sua generazione Che dalle ballate intimiste Da piano bar Vanta oggi Un repertorio Di un'umanità Chiassosa e colorata L'evento è finanziato Dalla regione Campania Con fondi poche Ed è realizzato Grazie ad anni 60 Produzione E con il sostegno Della BCC Di Buonabitacolo Del direttore Angelo De Luca Arricchendo il programma Di valorizzazione Culturale Del meeting Per dare voce Ai comuni del sud E aprire ad un confronto Tra tutte le realtà Montane Del mezzogiorno Capostela E la sua musica Ha affermato Il sindaco Vittorio Esposito Sono il sindaco Di un mezzogiorno diverso Un sud Che può rinascere Abbiamo individuato In Capostela E nelle sue canzoni L'emblema dei suoni Delle storie Delle culture E dei personaggi Di ogni epoca Che sono patrimonio Della gente di montagna Per questo motivo Abbiamo deciso Di consegnargli Un riconoscimento Che lo investe Del ruolo di ambasciatore Nel mondo Della gente del sud Un canzoniere Straripante Universale Spiega Esposito Inconfondibile Grazie anche Alla qualità letteraria Dei suoi geniali testi E' per noi Un grande orgoglio Averlo a Sanza Sarà invece Piera Lombardi A chiudere la rassegna I colori dell'estate Organizzata dal comune Di Sant'Arsenio La rinomata Cantautrice Cilentana Protagonista Della scena Folk Ethnic Award Con oltre 400 concerti Tra Cilento Vallo di Diano Europa Ed Ameri Che suonerà Domani sera Mercoledì 29 aprile A partire Dalle ore 21 In piazza Padre Domenicani Si chiuderà Così in bellezza Il cartellone Di eventi estivi Promosso dal comune Di Sant'Arsenio Che ha dato il via Ad oltre 20 serate Tra cultura Arte E musica Rese possibile Da un cofinanziamento Della regione Campania A valere Sui fondi POC 2014 2020 E ora Lo sport Con il calcio A Napoli Si è tenuta Ieri La cerimonia Ufficiale Che ha svelato I calendari Del prossimo Campionato Di eccellenza Campana I nastri Di partenza Per gli addetti Ai lavori Favorite La Palmese E l'Audax Cervinare Giuseppe Promolla In attesa Di capire Il futuro Dell'Agropoli Il giorno 13 settembre La pronuncia Definitiva Sul ripescaggio In serie D Ieri a Napoli A bordo Della nave MSC Si è svolta La presentazione Ufficiale Dei calendari Del prossimo Campionato Di eccellenza Campana I due gironi A e B Hanno visto Dunque la luce Nel girone B Come sempre Inserite Le formazioni Salernitane Della Vellinese E della costiera Oltre All'Agropoli Nel girone B Ci sono Audax Cervinare Battipagliese Castel San Giorgio Costa D'Amalfi Eclanese Faiano Palmese Sant'Agnello Sant'Ommaso San Vito Positano Santa Maria Solofra Valdiano E Virtus Avellino Prima giornata Ricca di spunti Il prossimo 9 settembre In programma Due derby Irpini Audax Cervinare Sant'Ommaso E Solofra Eclanese Il derby Costiero Tra San Vito Positano E Costa D'Amalfi Le intriganti sfide Battipagliese Santa Maria E Castel San Giorgio Scafatese A chiudere il programma Polmese Sant'Agnello E Virtus Avellino Valdiano Per la formazione Blaugrana Un inizio di stagione Non semplice Dopo la trasferta In terra irpina Doppio appuntamento Interno Contro Battipagliese Santa Maria Alla non aggiornata La sfida Con l'Agropoli Se non sarà ripescato E alla decipe Il derby Con il Faiano Alla dodicesima La sfida Contro l'ex tecnico Criscuolo E la sua palmese Mentre chiuderà il campionato Contro San Vito Positano E Solofra Sulla carta Due gare Che rappresentano Scontri diretti In ottica salvezza Alla vigilia Dell'avvio del campionato Audax Cervinara E Palmese Sono le favorite Ma così come Lo scorso anno E negli anni precedenti Sarà il campo A dare il suo verdetto E quindi Le sorprese Non mancheranno E termina qui Il nostro TG Io vi ringrazio Per averci seguito E vi auguro Un buon proseguimento Di serata Grazie a tutti